Ciao, sono Manuela Pellegatta, sono una cantatrice italiana, suono la chitarra al contrario con le corde al contrario e ho accettato la sfida di scrivere una canzone durante questa settimana. Ho preso spunto da un libro che ho letto, la trilogia della Città di Cappa, di Agatha Christoph, è un libro che mi ha fatto riflettere molto, i protagonisti sono due bambini gemelli che vivono in tempo di guerra in un paesino dell'est Europa e mi ha fatto riflettere più che altro per come i bambini possano avere una visione differente rispetto ai grandi, a volte più realistica e a volte invece si creano proprio un mondo immaginario. Ho cercato parole molto semplici per raccontare questo viaggio che parla di sopravvivenza in sostanza, sopravvivenza fisica e mentale.